Buongiorno a tutti, oggi facciamo una diretta un po' più presto la mattina, sempre per dire i soliti 2-3 consigli sui film previsti oggi su RaiMovie e comincio con una doppia opera d'arte, un giro di gatto e una riproduzione di Guernica, sono a casa di un amico. Ciao Domenico, ciao Domenico, buongiorno, sono in zona milanese di passaggio, stasera torno a Roma e niente, insomma, ciao Tommy, ciao Tommy Zitt, buongiorno, buongiorno a tutti quelli che condividono su Twitter e anche a quelli che non condividono, Miriam, buona Pasqua a tutti quanti, questa è la solita diretta quotidiana per i nuovi arrivati, parliamo dei film che vanno in onda su RaiMovie, canale 24 del Digitale Terrestre e canale 14 di TVSAT. Volevo ringraziare i nuovi ascoltatori di questo account, adesso mi pare che nei giorni scorsi si siano un po' ridotti gli spam bot, gli sex bot che aggiungono, insomma, che seguono costantemente. Non so se succede anche voi, ogni giorno trovo 3, 4, 5, 10. Johnny Depp in Giarettiere, ottimo, certo, certo che sì, stamattina ci avevamo, credo fosse l'ultimo passaggio, di Ed Wood, uno dei migliori film di Tim Burton, in cui si parlava appunto di questo regista, regista di pessimissimi film, è anche tu, vero? Infatti io mi sono anche un po' stufato di togliere, adesso stavo guardando un momento che cosa c'avevo, follower 1310, ho l'impressione che ci siano un po' di russi, eh, infatti sì, per cui, allora, chi posso ringraziare dei nuovi arrivati? Gian Marco, Paul Maud, Mark Anthony Lion, Tommy, Tommy Zeta, no Miriam, non lo faccio, non lo faccio su Facebook, per la fine mi piace un po' questo fatto che su Periscope durano poco, il fatto che i commenti si leggono più facilmente, mentre su Facebook non riesco a leggerli, mi piacciono i cuoricini, su Facebook l'ho fatto una sola volta, un po' così per scherzo, però alla fine credo che queste dirette qua siano un po' più divertenti su Periscope, poi insomma Facebook c'ha già veramente tutto, però adesso mi viene da lasciare a Twitter almeno l'esclusiva di queste dirette streaming. Tu vai su Facebook Miriam, sei andata, hai fatto le dirette lì? Allora, Tommy Zeta che sta seguendo questa diretta qui, Marco Montone, Alex Italia Tweet, Aglio Vestito, e Deli De Marzo, che mi sembra sia un cantante, Sara Riccardo, Alessio Guselda, e poi invece mi sa che queste sono tutte le pornazze che devo, vedete, no, non si riesce a vedere, sì, ecco, tutte le russe nude. Io ogni giorno faccio un po' di bonifica, ne tolgo 4-5, mi sono un po' scocciato, cioè alla fine diventa un lavoro, un lavoro dove ripulire la lista dei tuoi follower, tanto poi non fanno altro se non aumentare la lista. Che dobbiamo fare? Non so bene da cosa dipenda, probabilmente qualcuno ha inventato uno scriptino, non capisco più che altro che cosa intendano fare, forse sperano che uno poi le segua e vada sui siti dove vendono i loro, diciamo così, servizi. Non mi è successo. Ah, perbacco, devo ricominciare dopo, per un amico che mi sta telefonando, ci sentiamo più tardi. A fra poco, scusatemi, ciao.